Sono stati svelati dei dettagli sulla nuova serie Netflix, Berlino, lo spin-off della famosissima serie, La Casa di Carta, che ha come protagonista il più amato personaggio della serie. Berlino, per l'appunto. Ma di cosa parla questo prequel? Un indizio è stato dato da uno script letto da Pedro Alonso, attore che interpreta proprio il famoso Berlino. Ci sono solo due cose che possono trasformare una giornata orrenda in una giornata meravigliosa. Il primo è l'amore. E davvero, non era così. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato. La seconda è una rapina del valore di circa 10 milioni di euro. Ma non era nemmeno così. Stavamo per rubare. Il collegamento a una rapina che valeva incredibilmente di più. Oggi sarebbe stato un giorno semplice. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un bastardo, con una pistola puntata alla testa. Al che è seguita un'introduzione ai personaggi coinvolti nella serie. Kayla, per esempio, è un ingegnere informatico esperto di cyber security. La mente del gruppo. Roy, invece, è stato descritto come il braccio destro di Berlino. È molto sicuro di sé e si fida molto di lui in tutto ciò che fa, perché lo ha tirato fuori da un passato burrascoso. A seguire c'è Damian, amico di lunga data di Berlino e molto vicino a quest'ultimo. Cameron, una donna piena di energia e Bruce, un uomo più impeto che cervello. La serie verrà girata in Francia e in Spagna. Al momento non è stato né confermato né negato che possano esserci altri personaggi della casa di carta in questa serie. Sarebbe interessante, per esempio, vedere il professore, fratellastro di Berlino. La prima stagione arriverà su Netflix nel 2023, ma non c'è ancora una data di uscita precisa.